Sono online, sono online, sono online, c'è sindo stai, Anuska è come qua, bella raga, oh come andiamo piccoli Anseli, allora, fammi vedere se a me si sente, aspetta che c'ho le cuffie, ambulanze incredibili, Sì, come va? Ambulanza immancabile oggi, proprio inizio per celebrare, proprio l'inizio di questa live su The Cursed Ragazzino, una settimana fa, vi avevo detto che l'avrei letto tutto, e io non l'ho letto, sì che l'ho letto, l'ho letto tutto, tanto è cortissimo, ci ho messo un giorno, ci ho messo praticamente, quindi da paura, Tutto ho letto, è corto, ma visto quanto era corto, ci ho messo niente, e me so scritto, grazie a Turi1356, non è proprio un reassunto, è proprio me so scritto una cosa proprio al volo di ogni capitolo, Che so tipo un'ottantina, metti caso, e ve leggerò tutto quello che ho scritto, scena per scena, perché so tanta scena, e ne parleremo, sei contenti? Oh, riassunto accuratissimo live di The Cursed Ragazzino, mo vediamo se riesco a fare l'editing, grazie a Franzi Dauni, che si abbonava il quarto mese, grazie a Franzi, grande! Oh, nuovo format incredibili, mo aspettiamo 5-10 minuti, che entra la gente, e andiamo a cominciare, Se non c'è a vomitare, non è che c'è da vomitare, tu leggi le cose e fai, cioè, no, tutto il trick del libro è spiegato in quattro righe, grazie a Darth Malfius, che ha donato 7 dollari e 77, Dai, con Art and Ripote, anche se quello meh, eh, bravo, grazie a Darth Malfus, per una donazione incredibile, che apparsa in un attimo, E dovrò sistemarle, queste cazzi donazioni, noia se sta dietro, Oh, quindi, oh, se Amazon, guarda Tiranno Oscuro che fa il mod, praticamente, dovrò farti mod, pazienta, Tiranno, mi dispiace, Invece devo mettere un giorno e leggere bene tutte le cose su Twitch, capito? Già ho provato a sistemare le donazioni, ma niente, non gliene frega un cazzo, ho provato a disinstallare Streamlabs, Tutto l'ho provato, è buggato come la Mortens, capisce il motivo, mo' provo a scrivere proprio a loro, Cioè, cioè, me ne ero felice, almeno c'è la donna, so' contento, Mr. Pine, ciao! Spero ti vada meglio, so' contento che almeno ci sto io, che ti faccio compagnia, oh... No, hai le Ianne, non posso ricaricarle, quelle là, The Cursed, però stanno qua, quindi quelle che ho fatto stanno qua. Dai ragazzi, che mo' iniziamo con Enrico, The Cursed, ragazzino, siete pronti? Siete caldi? Qua è cambiato tutta la schema dei Twitch, sta a vedere. Grazie a Benny, Barzi, che sei iscritto, iscritta! Lo vedi, vedi, è arrivata un'altra ondata di gente, ciao a tutti, ciao, salve, ciao a voi! Belli di casa! Dai, dai, lo vedi, lo vedi, mo' inizia tutta la gente, altra gente! No, no, adesso stiamo per andare, lo vedi perché ho voluto aspettare un pochino? Grazie, Ander397! Stavo dicendo, che stavo dicendo? Non mi ricordo. Ok, mi sono letto tutto il Cursed, regazzino, e mo' andiamo a leggere una piccola, diciamo, un piccolo riassunto che mi sono fatto, che mi servirà pure da scheletro. Casomai faranno un film per futuri capitoli. Capitoli! Futuri film, io spero che non lo facciano. Hypetrain, ok, grazie per l'hypetrain. No, grazie, Vincent, io ti voglio bere. E daia. Hanno già detto no, sì, per adesso. Mo' vedi quando arrivo negli sordi. Grazie a Dalia, avete 500 sbiribolli, c'è, trono? Ti sono un po' riposato in questi giorni? No! Perché ho cagato il video e poi mi sono letto tutto il Cursed, regazzino, però... Mo' stasera mi riposo, domani no, ok? Ok, dopo la live mi riposo, mangio, mi faccio un po' i cazzi miei, e poi ricomincio con Death Note, il prossimo video sarà Death Note, va bene? Intanto partono cose delle macchine, allora, io direi, bando alle bambi, bando a bambi, iniziamo con dei corsi e dei ragazzi... Voglio provare a fare una cosa. Allora, se io facessi una cosa tipo schermo... Rimpicciolissimo. Schifo, che ne so? Allora. Te lo faccio interattivo. Andiamo su immagini. No, non mi frega il cazzo di Daniel. De Cursed, regazzino. No, perché me lo mettete là da becchi, se ne frega. Capitolo 1. Allora. Di che parla? Grazie a Johnny, oh, che sei subscritto. Allora. Il primo capitolo di questo libro è praticamente l'ultimo del settimo. Con Albus Severus. In teoria il protagonista di questo libro è Albus Severus. Grazie a Jackalow. Che ha paura di andare in serpe verde. E c'è proprio il serpeverdismo ai massimi. No, eh, guarda. Glielo poi chiede Grifondoro. E va bene. Questa è la prima scena. Mi sono perso degli sbiriborri. Eh, che cazzo, regà. No, gli sbiriborri. Grazie a Gicheleu. Grazie a chi mi ha donato gli sbiriborri. Sbiriborri. Eccolo. Cioè, si conosce i Nugash? Lo conosco che sì. Ci sarà il sequel. Come il sequel? Avrete le gemelle e mezzo? No. Il resto di Nugash è un buono. Comunque sì, o chiedevo. Cioè, sì, o chiedevo. O seguivo. C'avevo pure il fumetto quando usciva all'epoca. Il manga, sì. Poi, aspetta. È arrivata una donazione. Grazie a Navastiff con la sola donazione per dirmi TVB. Grazie a te. Cook, questo è il primo capitolo. It's an Albus. Quindi il probabilista è Albus. Questo qua. Madonna mia. Ma non lo posso ingrandire. Vabbè, famo così. Ecco, interattivo a stecca. Poi. Secondo capitolo. C'è tutto. Stanno sempre. Continua. Quindi praticamente il secondo capitolo continua. La fine del libro. Sì, del fumetto. E Rona fa tutto un teatrino di merda. Il respiro rubanaso. Perché adesso lui in teoria ha preso il posto di Fred. E lavora, grazie a culo trascendentale. E lavora per i tiri vispi Wimbley. E lui ha... Cioè praticamente fa il gioco ti ho rubato il naso. Molto divertente. Terzo capitolo. Ti posso dire il combattimento tra Saitama e Genos e tutti. Mi sono inizio del lupo. Grazie, sono contento. Ma non è che so capitoli lunghi, eh. Cioè sono proprio... Manco mezza paginetta ognuno, carcola. Va bene, ok. Terzo capitolo. Il terzo capitolo dura per ditte una pagina. Cioè veramente... Una pagina scritta in piccolo. È una cosa veramente glamorosa. Comunque. Aspetta, mi è arrivata una donazione. Una donazione. Grazie, Winter is Coming! Con 10 dollari alla Madonna. Tutto bene, Trono. Tutto bene, grazie. Ma che è sto meme di tutto bene adesso? Comunque. Terzo capitolo. C'è un po' di foreshadowing della signora del carrello. E sì, contra Scorpius. Oh, l'altro protagonista di questo dinamico duo che è... Però non deve essere un Auror. Eh, ma non l'ho capito se è Auror... Cioè, in teoria io sapevo che Doha prende il posto dei Fred. Forse ho fatto tutte e due. Grazie a Jupsi che sei iscritto a Marco Plato 87. Che sei iscritti? Stasera sto parlando di The Curse del Casino. Capitolo per capitolo. Capitoletto. Qua si chiamano scene. Per scena. Stiamo alla terza. Stiamo proprio all'inizio. Va bene. Oh. Scorpius del dinamico duo. Il figlio del Draco. E insieme ad Albus mentre la incontrano c'è sta Rose Granger Weasley che è la figlia che ha due cognomi tra l'altro. Granger Weasley però la cosa bella è che ci sta pure Albus Severus che per comodità chiameremo Severus. Comunque la cosa scusate mi sto perdendo perché è difficile leggere le donazioni a voi e vedere gli appunti che mi sono fatto. Comunque il punto è che siccome Rose è figlia no di Ron e Hermione che sono stati trattati male e bullismo da Draco cosa fa Rose? Tratta bullizza Scorpius i grandi insegnamenti Rose bullizza Scorpius e fa tipo ad Albus Namosene questo è il fiode Drago che schifo a Namosene complimenti e Scorpius grazie a Angel Wolf che sei scritto e fa un po' capito cioè ok che Albus Albus e Scorpius sono un po' sono tipo Iemo vent'anni dopo non si è capito questa cosa hanno voluto fare sta storia di Iemo questo avrà età mia che ne so che conosceva Iemo se no non si spiega sono un po' timidini così no Scorpius però sono caruccetti sono buoni però Rose serpentismo a livelli allucinanti brava figlia di bullizzata brava brava comunque e poi c'è due cognomi poi a parte questo parte la trama perché si comincia a di che sto Scorpius non sia veramente il fiode Drago ma il figlio di un altro personaggio indivina di chi? di Gaza no di Voldemort e tu fai ma come cazzo è possibile che sia fiato di Voldemort si perché la moglie di Drago Astora poi ha fatto la birichina con voi ma io non ho capito poi una cosa ora che ci sto a pensare adesso ma cioè Voldemort è morto durante la grande guerra dei maghi no? e sti ragazzini come Albus eccetera 19 anni dopo c'hanno 13 anni quindi Astora con chi avrebbe dovuto fa mh 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 Astora si chiama non mi ricordo come cazzo si Astora tipo Darso cioè ma non mi ricordo se l'hanno detto nel libro ma mi sono perso sto pezzo comunque dicono che avrebbe usato un giratempo forse va bene va bene va bene non si va bene comunque non mi ricordavo sto pezzo e se conosce sto Scorpio e Albus ci diventa amico piccolo Angelo ok capito cioè non è Harry Potter tu sei il figlio dell'altro cioè è beautiful coi maghi è cento babbane va bene Harry The Gepotter proprio capitolo 4 che è un su il capitolo 4 mi ha fatto tagliare perché è un sunto che cazzo è successo sono solo voci ho capito ma le voci che non hanno fondamento comunque il capitolo 4 è un sunto dei tre anni di Albus Hogwarts praticamente e dove siccome è finito in serpe verde lui al primo anno come un Harry Potter che non è Grifondoro grazie a Brian che si è abbonato un Harry Potter che non è Grifondoro onta incredibile fa schifo a Queen Fritz eccetera tutti lo piano per culo è un po' veramente Piton Severus come il nome che porta più che Harry e c'è solo Scorpius come amico grazie a Tabic Tabic nafiotto che si è scritto è un po' sfigatello e poi la cosa bene c'hanno sta relazione che è proprio tipo Evangelion e Kaworu Kaworus Scorpius Koalbus Shinji lascia fare comunque Albus è una merda i primi tre anni a Hogwarts un po' bullizzato eccetera i primi tre anni tutti nel capitolo 4 va bene la Triliello 5 va bene la Triliello 5 come il capitolo 5 se inventano che Theodore Not un mangiamorte che conoscevamo pure nei libri ha una giratempo suprema Super Saiyan che va indietro quanto cazzo gli pare ma pure quell'altra giratempo potevi andare indietro quanto cazzo ti pareva bastava nessuno dice mai non puoi andare indietro per anni tu stai lì ti metti a girare ogni ora ogni ora ogni ora 24 giri su un giorno eccetera però qui è un super giratempo di Cristina d'Avena e mo ce l'hanno Harry e Hermione che lavorano al ministero Hermione è proprio un ministro della magia non ha capito grazie a Cassandre e andiamo al capitolo 6 stiamo già 6 su 80 per dir forse ce la famo entro oggi Amos Diggori te lo ricordi Amos Diggori no ma qua no non è vero che si specifica trovami nei 7 libri dove cazzo si specifica e io ti ho ragione grazie a Downpanic che sei scritto Albus se è vero poteva dare il padre si proprio ehi e grab come fai a donare c'è stato lasciato il barbone sotto però se puoi donare dona se non lascio ok va bene allora ne approfitto per farvi capire fino a mo parlate un attimo del giratempo fatevi le domande che io intanto mi sa che mi sono perso qualche donazione qualche subscritto grazie a tutti quelli che sono subscritti vediamo le donazioni grazie a Ehi e Gabri eh ma hai mai donato ciao trono ma hai donato solo che appaiono di merda grazie però fratello sì infatti Albo c'erano sempre fuori i viaggi nel tempo quando non sanno che cazzo fa grazie a Maria Angela grazie a Shaka Mooney Lover grazie Eggi si parla di Cursa e Dregazzino siamo al capitolo capitolo a virgolette perché veramente sono una pagina è come se il libro fosse 80 pagine ogni capitolo è una pagina ma che ho scritta tutta capitolo 6 quindi stiamo all'inizio si vada incontriamo Amos Diggory sì lo so di quel video lo vedrò sicuramente in live poi Amos Diggory ragazzi se vi leggo a voi non posso parlare il padre di Cedric tu ricordi che mo sta proprio in sedia a rotelle sta devastatissimo sono passati 20 anni sta proprio a livello boomer over 9000 calcola grazie a Uta 193 mettiamo una fotina di Amos Diggory ecco a posto guardalo che carino immagino il sedo dell'idevastatissimo che dopo 20 anni a caso accusa Harry Potter di è colpa tua se è morto mio figlio zan che un po' è vero però vabbè non è che te carini rompi i coglioni ma per la miseria infatti pure Harry si sente in colpa ma lui è venuto a sapere perché c'ha le conoscenze incredibili che ha trovato star tra giratempo che può andare indietro per anni e lui vuole tornare indietro per salvare il figlio cioè cioè ma poi cioè se vai indietro nel tempo così mandi a puttane tutti gli avvenimenti dopo quindi non lo salvi il mondo perché se non muocare Cedric magari vabbè ma poi tu vai che è stato a 7 rotelle sta buono grazie a Fenix che si è iscritto oggi sono due mesi sono stata sono stata a 7 durante l'ultima live però adesso ti ascolto che ti gioco a dar solo 3 dai buona run cioè capito basi di tutti e va bene e si introduce Delfin Diggory la nipote di Amos slash badante che fa amicizia con Albus e va bene capitolo 7 capitolo magico non tanto però vabbè regaletti ai figli di Harry Potter a James Sirius porco cane potte il mantello dell'invisibilità quello figo me coglioni a Lily delle alette da fata che svolazzano pure me coglioni ad Albus la vecchia coperta quello la che c'è stava lui devastatissimo quando era piccolo che l'hanno data sia Petunia qua coperta la a quello mantello a quell'altra lei ha la coperta quello che aveva quando i Darsley lo presero cioè tipo Linus Linus Albus Intensifreeze eh ma a valore affettivo si ho capito ma che cazzo litigano litigano un litigio che Harry pare più ragazzino del figlio grazie a Grandeggion99 che si è iscritto perché cioè Albus si è in cazza Harry si stupisce Harry pare più ragazzino del figlio poi se pente dice delle parole tipo non vorrei che tu fossi mio figlio delle cose proprio che non ok boomer ok potter capitolo 8 ripoff ah si questo era il ripoff del capitolo del primo Harry Potter dove Harry te dice Harry che è un mago cazzo dici te giuro mandi cazzate te riconfidate ok questo è il capitolo 8 capitolo 9 casa Potter un'altra volta come prima quando gli ha dati i regali Harry gli fa male la cicatrice dopo un sacco di tempo scusate ogni tanto perdo il filo perché ve leggo però famo che me interrompo ogni tanto e ve leggo casa potte Harry gli fa male la cicatrice non ha senso che gli faccia male la cicatrice a volte morto è morto quindi che me stai a di che è tornato in vita come cazzo è possibile grazie a Darkon95 che sei iscritto va bene batti becca un po' con Ginny perché ha fatto il bordello non te sei regolato con Arbus c'hai ragione e poi si torna a dormire con sto pensiero Harry Potter oddio ok capitolo 10 poi mi fermo e ve leggo l'inizio del quarto anno l'inizio del l'ho letto tutto raga certo che l'ho letto tutto ma con chi pensi sta a parlare io vi porto le live di qualità io vi dirò tutto per adesso allora stiamo non ti pensi a un ottavo del libro non ti pensi non è successo un cazzo non è è quello che ti ho detto hanno tra la giratempo Harry e Albus litigano no personaggio delfi ma cioè la trama è quattro pagine scritte in grande guarda te lo posso far vedere al volo guarda guarda le pagine come sono scritte guarda guarda sto capitolo se è uno di quelli lunghi o di quelli questo è uno di quelli lunghi guarda uno due tre quattro fine del capitolo questo è uno di quelli lunghi cioè sta a capire dura tre pa... guarda questo sta a capire che non è che so così dove posso far vedere sta a capire che non so a capitoli cioè sta a capire quindi non è successo un cazzo ti sto di... io ti sto di punti salienti perché ok andavate capitolo 10 si inizia il quarto anno Rose che non è Lily Rose la fia di Harry ma la fia di Ron e Hermione Rose Granger vuole far pace con Albus dopo tre anni che si sono schifati perché lui è andato amico di Scorpio e lei Grifondoro vuole far pace ma Albus è Sunderino e fa ma vuole far pace e gne gne quindi no però non è solo Sunderino eppure pazzo scocciato perché vuole fare la grande fuga dal treno a caso Scorpius che è uno bravo che è uno con un cervello che è uno che ha la voglia di vivere come il padre gli fa no ma lui si perché vuole scappare Albus perché ha sentito il discorso che ha fatto Amos col padre e vuole rubasse la super gira tempo e torna indietro nel tempo per salvare Cedric ma perché vabbè comunque dopo dieci capitoli inizia la trama vera adesso ve leggo vedete donazioni voi intanto scrivetemi le cose fine 10 su 80 stiamo spero di riuscire a finire tra oggi grazie a nix3 che si è iscritto a dragon95 a grande gion a fenux xe a uta a senza sgludine a mariangela a gente alfa a tutti quelli che hanno iscritti vediamo le donazioni grazie a costanzia che ha donato 8 dollari e 41 che saranno 7 euro numero magisissimo grazie cesi grazie a te con c'è allora il punto che la trama fino a qua guarda ci potrebbe anche sta guarda col senno dei pori leggendo tutto mi sembra molto un filler alla broli no c'è c'è sta dragon ball z poi c'è l'attacco di broli con la profezia tutta sua tutte cose che poi vi dirò grazie alfonso 345 che si è iscritto ma è proprio scritto de me scritto proprio cringe sembra una fanfulla fiction gigante capito va bene poi no cazzo faccio ok andiamo avanti scena 11 albus e scorpius albus tutti us poi lucius sirius albus scorpius sono sul tetto del treno cioè questi 13-14 anni vanno sul tetto del treno capisci che non c'è senso vanno sul tetto del treno in corsa grazie a ziggy de dude che si è iscritto e indovina chi c'è sta pure grazie a sherman93 che si è riabbonato per 4 mesi grande grazie a jackson9611 che si è abbonato così da botto chi c'è siamo loro la signora del carrello la signora del carrello si scopre in villa in incredibile che c'è gli zuccotti de zucca esplosivi che nessuno sa accorto che se tutti erano zuccotti de zucca quello esplode ok e che fa sto lavoro da 190 o dice il libro fa sto libro fa sto lavoro da 190 anni cioè quindi c'è il segreto c'è voldemort voldemort non è andata a lumacorno dalla signora del carrello dove andà e che il suo compito era non far scappare nessuno dal carrello che diventa tipo un'arpia una casallo va bene impazziti totale proprio in sto libro libro ma i nostri eroi si buttano e si salvano e la strega del carrello non si vedrà più non ti spiegheranno che cazzo era era un mini boss va bene capitolo 12 riunione dei maghi al ministero della magia drago sbraida contro harry grazie a nice 96 che c'è scritto il personaggio si involve per un po' perché torna al primo libro e accusa un po' tutti c'ha vedi con me tu sei madblood e tu vuoi fare l'eroe va bene va bene ma un po' è scusato perché grazie che te sei riabbonata lo guardano tutti male perché ci stanno le male lingue che dicono che Scorpius è il fio di Voldemort è il nostro che è cornuto proprio gli occhi di drago cioè capisci che è tutto fanficion è una fanficion se parla di sentire è rossana con i ribotti eric sempre detto eric eric ci rimane male mentre se scopri che i vecchi alleati di Voldemort scalpitano vanno in giro ancora ti vogliono fare capi che c'entra Voldemort ma sta cosa ha senso nella trama no va bene scena 13 la casa la scena 13 è il capitolo più bello la casa del riposo dei maghi è un bordello fine bene scena 14 dici poi lo è la faccia di questo no aspetta mo la arriviamo col prossimo capitolo vediamo quando arriva un altro personaggio albus e scorpius trovano amos e gli fanno ti aiuteremo noi a salvare tuo figlio e amos gli fa albus è devastato dalla risposta fate aiutare fatevi cazzi vostra insomma va così la conversazione dai no dai no delfi ci mette una buona parola delfi e si ricrea così un trio magico perché amos si fa vai con loro vai come il mio neron e harry tu maschi è una femmina come quelli di naruto si e dai delfi è diventata amica loro e ad albus gli piace però è un po' più grande di loro c'è una ventina d'anni una cosa del genere si va avanti scena 15 casa potta è un'altra volta so tutti riuniti a parlare di draco di tutte le sue accuse che sta rosicà perché gli è pure morta la moglie e gli dicono che è cornuto poverino poverino e harry viene pure a sapere che albus e scorpius non sono arrivati a scuola o meglio sono arrivati a scuola corca zan 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 scena 16 il nuovo trio magico frebuta quello vecchio indovina come cosa useranno per entrare al ministero una cosa a caso un'espediente a caso regà vals vi lascio indovinare bravo rizzetto la pozione polisucco ma io dico ma avete rotto il cazzo ma usate un'espediente no c'è delfi grazie a rai steen 83 che ha donato gli sbiribolli grazie mille fratello delfi diventa ermione albus diventa albus il fiore di harry diventa harry no ron e scorpius diventa harry e via verso il ministero della magia scena 17 harry e drago litigano un'altra volta però drago c'ha un po' ragione perchè il figlio è perseguitato veramente ovvio no per culo grazie a cinciandreus che si è scritto se lo trovano gli fanno la bua e poi lui gli farà la bua a tutti quelli che osano erry confessa quindi a drago che ha litigato pure lui col figlio che lui ha litigato col suo figlio e può essere può essere che albus l'abbia portato a far danni con lui a scorpius le cattive compagnie drago non ci rimane troppo beh ok scena 18 albus un tredicenne raga qua nel corpo di ron albus un tredici quattordicenne vabbè il primo anno cioè il quarto anno inizio del quarto anno un tredicenne nel corpo di ron stanno davanti all'ufficio del ministero devono far da diversivo perché sta arrivando ermione cosa fa cosa fa albus nel corpo di ron con ermione vera la bacia un tredicenne che bacia una quarantenne porco grinde andiamo avanti sotto trame comiche proprio all'iel quella del film poi cioè la rubano proprio a quella del film ora che ci penso ma cioè questo ha rubato al film e al libro andiamo avanti questi capito poi vogliono entrare all'ufficio del cazzo dei ministri della magia copoli succo ma porca puttana ma scusa ma mo è rirmione stanno al ministero se loro ci sono entrati non è la prima cosa che hanno fatto difendemosi da sta cazzo dei poli succo visto che noi abbiamo bucato il sistema no ancora sto buco della poli succo grazie a scrittice sui pattini va bene ok mettiamo ermione dopo il bacio ermione ecco bravo ermione che ti fai baciato ai tredicenni bravo ermione brava grazie a cipolli sai che te se va bene mi può funzionare grazie con la mia salute vai cioè capito ma non ti rendi conto che è una falla un po' grandina va bene andiamo avanti sono tutti meme comunque meme e fanfiction perché fanno tutte cose fanno i meme fanno le battute poi parlano no io ti voglio bene no io cioè meme e fanfiction va bene scena 19 i tre sono nell'ufficio del ministro ce l'hanno fatta così proprio in due capitoli scritti pure corti ok dopo i pezzetti do son cric perché ci stanno sempre perché albus sta a fare tutto sto bordello perché ha litigato col padre ricordamoselo adolescenza adolescenza grazie a penguin stro che si è scritto è così per trovare la giratempo ermione ha fatto degli incantesimi morire dalla favola devono combattere contro una libreria che comunque il trick è che devono indovinare delle robe non è manco male è tipo la sfinge della prova del quarto libro tra l'altro però dai dai alla fine ce la fanno e piano sta super giratempo sgrava ed è fine del primo atto oh il primo atto su quattro e mancano altri tre non vedi che scorre madonna ragazzi che monnezza dai penso che ce la possiamo fare tutta entro oggi spero che ve ne pare fino a mo intanto mi riposo un attimo leggo che mi scrivete donation history grazie a davide wallace per il dollaro c'è di cotone per la corsettina del 5 novembre lo so lo so grazie a costanzia ok sì sono tutte fanfiction veramente è una cosa clamorosa ma come si scarica non è che si scarica sta sul kindle io l'ho trovato sul kindle di amazon che è sempre di twitch è sempre roba loro quindi potrebbero fare un gemellaggio con i kindle che uno potrebbe potrebbe cioè uno può legge mettiamola così i libri su twitch questo libro è un abominio ora devo andare ciao bello tante cari cose grazie per i pippoli io ho comprato inviaginato il libro è fatto bene almeno hai letto qualcosa mentre siamo ancora all'inizio della trama mo continuo un recapino albus non è grifondoro come tutti si aspettavano ma è serpeverde ed ha come unico amico scorpius il figlio di drago però dicono le malelingue che poteva essere le malelingue biforcute che potrebbe essere il figlio di Voldemort fatto con la defunta moglie di drago che è morta di parto esattamente come tutte le madri come la madre di Voldemort ora mi rendo conto arrivamos che rosica dopo che Harry ha trovato una super gira tempo fammi tornarmi figlio e Harry non se può fa poi Harry non contento va in camera di Albus e litiga pure col figlio vaffanculo no vaccene e allora Albus marina tutta la scuola proprio se butta dal treno e vuole andare a dare una mano ad Amos li conosce Delfin la nipote di Almos slash Badante e tutti insieme si dirigono verso il ministero dove con sprezzo del pericolo trovano soventi no questa è un'altra cosa non è morta vabbè è morta comunque vabbè è schioppata la madre soventi e senza induggi la gira tempo papapapa no al secondo anno di Scorpius è morta vabbè chi se ne frega ragazzi cioè è inutile proprio no what ma che ha scritto la Rowling questo libro l'ho scritto dei fan della Rowling andiamo avanti allora secondo atto scena 1 si torna nel passato tornano in questo cazzo di passato no no è un ricordo diciamo un ricordo slash sogno è di Harry Cesira regine tutte cose non so se è mai arrivato il sabbuk di grazie ti ringrazio grazie mille Harry dorme nel sottoscala era i tempi di Harry vicino e sogna quella fatidica notte anche basta con sta cazzo di morte dei genitori si sveglia di sovrassalto nel sottoscala e scopre che ha fatto la pipì a letto Harry quando faceva la pipì a letto sia Petunia non la prende troppo bene scena 2 la scena di prima era un sogno cioè la scena di prima era Harry che sognava quella fatidica notte si sveglia ed è Harry piccino nella scena 2 ti fanno vedere che invece è l'Harry grande che sogna l'Harry piccino che sogna quella fatidica notte Inception sogno vero proprio e Harry così capisce dove sta il figlio Albus perché era una mezza visione pure e vede Albus con una divisa di Doomstrang aha ok scena 3 il magico trio originale si riforma nell'ufficio della McGranit più uno special guest Draco per andare dove? nella foresta proibita perché tutto rimanda al primo libro sta roba a fine c'è sta questa cosa di Hagrid lui che sogna da piccolo i piccoli angeli sono lì Harry lo sa lo sente va bene perché l'ha visto nella foresta capito va bene siamo in credito ancora viva immortale questi non vanno mai in pensione tra l'altro quindi vanno tutti verso la foresta scena 4 i ragazzini vogliono andare dietro nel tempo così debotto senza pezzacce senza senso grazie a sera 3 1 1 il piano dei ragazzini qual è alla fine torna indietro dei 20 anni fa 20 anni prima durante il quarto anno di Harry e mette i bastoni fra le ruote a Cedric durante il torneo 3 4 maghi perché se non vince Cedric sto cazzo di torneo non tocca la coppa e quindi che cosa vogliono fare loro vogliono expelliarmarlo al drago durante la prova del drago cioè ma poi il drago non se lo magna che è una domanda che fanno anche nel libro no e seconda domanda che fanno pure nel libro che è veramente scusa ma questa è una cosa fondamentale ma se torniamo indietro nel tempo di anni come cazzo torniamo nel presente oh qual è la eh bravi che fanno sta domanda nel libro virgolette che cosa rispondono nel libro secondo voi mettiamo la giratempo intanto cosa faranno no non è questione se si può fare un nuovo questo giratempo che cazzo ne sanno loro la risposta loro è te lo dico subito non c'è tempo per pensarci questa è la risposta di Albus cheat praticamente non c'è tempo per pensare cioè porca puttana ma poi mi prendi per il culo cioè l'unica cosa che ti manca e non ti manca è il tempo cazzo cioè ma sul serio eh cioè potrebbero parlarne per un'ora potrebbero parlarne gira una volta qua cazzo e gira tempo è a posto hai risolto l'ora quindi non mi devi via per culo cioè tra tutto non puoi fargli di non c'è tempo e nobody got time for that ma che veramente si mettono le divise di Doomstrang perché per diciamo sta in mezzo alla folla grazie a Italian Lego e via scena 5 nel passato ci vanno solo Albus e Scorfio e Scorf e Scorfanus Delfi la lasciano là perché col cazzo che vuole rimanere bloccato a vent'anni indietro nel tempo c'ha pure ragione no non è per questo però vabbè perché ce la lasciano loro grazie a Pudge Jeff per se è bravo per terzo mese no non mi artero troppo e guarda un po' guarda un po' se ne vanno proprio mentre sta arrivando Harry che ne sta per ciocca e Delfi se n'è andata ma porca puttana chi incontra Harry quindi Delfi no Bane ma siamo dentro Batman no Bane è un centauro che io non l'ho mai sentito però vabbè a caso proprio becca un centauro e gli chiede hai visto mio figlio sì gli hai fatto il centauro Harry dove è il centauro nelle stelle ma vaffanculo ma vaffanculo però è vero ci sono presaggi molto cattivi attorno a tuo figlio c'ha una nuvola lera è lost oh c'ho tuo figlio Harry oh c'ho cose così scena sei Albus e Scorpius si dicono quanto so amichetti quanto so io non be quanto tutto sia una fanfiction slash yaoi sta roba e poi il tempo si ferma c'è poco scritto così The World e vai di rewind questo è un capitolo solo per che so voglio bene scena del secondo atto numero magico si torna nel 1994 perché è ambientato in quell'anno il quarto libro di Harry Potter nel 1994 infatti Harry è del 1980 adesso sarebbe un quasi boomer no dopo una scenetta Tessacoalbus è una giovane ermione che potrebbe non dire un cazzo ma i due pazzi corruttori a monte d'ultor torneo disarmano Cedric mentre sta davarmi bene Cassandro perfetto ok ok mi pareva strano disarmano Cedric e la giratempo comincia a ticchettare a caso frenicamente capisci il motivo lampo di luce tornano convenientemente nel presente perché prende sta cazzo il giratempo ha un limite di 5 minuti però la fa tornare il presente ma quanto è comoda sta giratempo ma guarda un po va bene ma te ma te rendi conto questi 20 anni nel passato cazzo Harry e company li scioccano finalmente si riuniscono con i genitori piccoli angeli ottava scena Harry si sveglia nell'infermeria così lente quadro silente gli consiglia che sta buono col figlio e accettarlo così com'è e Harry gli fa sì sì c'hai ragione sì sì forse ho esagerato sì sì arriva il figlio e Harry devi stare lontano da Scorpius così madonna Harry hai appena il tastinente che lo vuoi accettare no la Umbri già è diventato ma c'è un motivo che Harry fa le cattive compagnie è diventato un bullo pure Harry ma chi te lo dice chi ti ha consigliato così che so cattive compagnie la nuvola nera chi te l'ha detto un cavallo parlante che Cassandro abbe Harry abbe Albus non la prende bene ma Harry la prende ancora peggio sto Harry è un po' strano e chissà perché attenzione Harry comunque adesso vuole controllare ogni suo movimento con la mappa del malandrino dentro Hogwarts e se incontra Scorpius arriverà la McGranita come non si sente ma cazzo dite perché mi trolli maledetto bastardo aspetta eh mi stai trollando stronz no voglio bene voglio bene allora voglio controllare ogni suo movimento e qual'è la McGranit e vuole indagare sul vero sì ho capito che si sente grazie cioè vengo trollato perché io mi fido della getta pensa che stroso e viene e vuole indagare sul vero passato di Scorpius per vedere se è veramente figlio di Voldi o no incredibile ma vero boss e detto vedete l'Humbridge è impazzito va bene non a scena perché Harry è impazzito così perché c'è la giratempo personale ed è tornato come padre anni 20 no perché non è il vero Harry zan 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 non è il vero Harry secondo voi perché non è il vero Harry che vuol dire che non è il vero Harry è il vero Harry però però ci sono delle differenze è il vero Harry ma di una dimensione parallela perché il fatto quella scenetta che ti ho detto che non era così importante di Hermione che ha visto Albus e si sono parlati ha scatenato tutta una serie di eventi e adesso sono successe delle cose quindi questa è ritorno al futuro ragazzi è ritorno al futuro 2 è ritorno al futuro ragazzi perché Harry 616 perché in questa dimensione Ron è sposato con Hermione no Padme Padme quella che io prima ho per culo torna a Star Wars no rimani con Ron Albus non è più serpe verde ma è griffondoro e quindi sto giro tempo ha fatto un po' del bordello o meglio loro hanno fatto il bordello decima scena del secondo atto ho detto che è una fanfiction la McGrenit non è proprio convinta di st'idea di spia Albus brava McGrenit Harry allora capisce quello che ha fatto e siete una regolata no che deve diventare come Caramel farete quello che dico io in questa scuola usarò tutta la forza del ministero Harry è impazzito proprio io sono presceltissimo tutti ci rimangono un po' così undicesima scena in questa dimensione parallela Hermione non è più un ministra ma è insegnante di difesa contro le arti oscure ed è pure stronza peggio dei piton è un piton donna è successo qualcosa di strano in questa dimensione parallela ed è diventata cattiva dodicesima scena cioè ma capito Hermione infame Hermione infame stava a questo scena proprio Evangelion Albus e Scorpio che si guardano nella penombra perché è tutta una cosa teatrale no dalle scale ma che ma poi scusa ma Albus non può più parlare con Scorpius perché il padre gli ha detto non c'è di più parlare ma ho capito ma Scorpius è quello della dimensione prima pure Scorpius no non gli dice assieme un casinato spazio tempo assi è successo qualcosa che non va no non si parlano va bene qua non stavo a capire che cazzo succedeva però è una cosa tipo intrinseca un po' alla Evangelion capito tredicesima scena Drago va a trovare Harry siamo sempre nella dimensione parallela qua però bene o male le cose tranne queste piccole cose piccole Hermione che si è sposata con Ron le cose sono date eh a Drago non gli sta tanto bene che Harry vuole dividere i figli che sono amichetti e bravo Drago vedi Drago è tornato bravo Harry però gli fa e semenano con la magia semenano e Drago vince pure Drago gli emena pure cioè lo fa rimbarzare la stanza ride che di grande Drago giustizia per Drago grazie a Iaos che ha caricato l'abbonamento a Belive poi però li interrompono e che cazzo quattordicesima scena Scorpius parla con Delphi che sta pure lei in sta dimensione è cambiato solo che Cedric è disarmato l'hanno disarmato là però poi è morto uguale perché questo gli ha dato più voglia il fatto che l'hanno disarmato gli ha dato più voglia per vincere la seconda prova quindi l'ha toccato uguale alla coppa quindi è andato tutta puttana uguale cioè capito ma scusa una cosa poi tra l'altro è arrivato primo una seconda prova uguale non è arrivato primo insieme a Harry non ho capito va bene comunque se vogliono bene tutti evviva l'amicizia quindicesima scena Drago e Harry pure se vogliono bene no no è morto dopo è morto sempre contro Cotaliscia perché è arrivato sempre prima mi ha toccato sempre la coppa grazie al most angelica che si è iscritta nel secondo mese scusa se t'ho spadasciato per tutta la stanza gli dice Drago e Harry scusa se ho accusato la tua defunta moglie di fam col signor oscuro gli dice Harry fine della quindicesima scena che io fanfiction e gente che si vuole bene questo libro virgoletto sedicesima scena Scorpius Coalbus che ci adesso riparlano dopo dieci capitoletti perché Albus non ci parlava più perché papà non voleva ma io dico avete devastato il multiverso e te preoccupi delle sgridate del tuo padre dalla dimensione parallela ma che cazzo dici vabbè si scopre che Ermione è diventata infame e qua ormai stiamo a parlare veramente dei cazzi della gente della dimensione parallela però è di questo che parla il libro Ermione è diventata così non ha più sposato coso perché come era la situazione non è più andata al ballo con Krum Ermione non si è più fidata della gente di Doomstrang perché Albus ci ha fatto quella conversazione un po' sospetta e aveva la divisa di Doomstrang siccome lei non è andata con Krum Ron non si è ingelosito non hanno litigato la gelosia era tutto e tra ma te rendi conto ma a me poi che cazzo me ne frega ma io vorrei sapere la trama quella seria non sta agonia però va bene famola passà quello che non faccio passà è la legge di Croaker signori siamo arrivati a una delle leggi retcon che fanno più sbroccane la vita la legge di Croaker mai sentita da nessuna parte mai letta che cosa dice la legge di Croaker che il massimo che si può tornare indietro con la gira tempo normale quella che va a Ermione è dei 5 ore ma chi l'ha detto ma quando mai ma non dimmo cazzate dei cursed filler proprio perché se no si creano in crespature e te fai male infatti Albus quando erano tornati indietro dal viaggio ha sofferto di un dolore ma sti cazzi vabbè poi litigano un'altra volta sti due fanno pace e litigano fanno litigano e fanno pace perché esso è il fio di Harry Potter fa schif quello di Voldemort fa più schif gli dice Scorpius ingrato sfigato semenano e poi tutto così la trama veramente ogni 10 pagine di gente che i sentimenti porca puttana no ma la legge del cibo è nei libri sta legge dei crocker non è mai esistita ma chi lo dice nei libri non c'è nessuno nei libri che dice che le giratempo possono andare più indietro dei 5 ore ma non dimocazzate infatti la Rowling nel quinto libro le spacca tutte le giratempo apposta le fa spaccare tutte a Ronno e a Hermione non mi ricordo quando stanno vicino all'ufficio misteri perché erano oggetto di Cristo voi trovate un trafiletto che magari non mi ricordo dove dice le giratempo hanno un limite e io ve do ragione perché non è così no no non me dovete ah la Ronny che l'ha spaccata apposta perché se le scontate mi sa che queste giratempo mi devastano tutta la trama da qui in poi ma io se le levo dal cazzo comunque la seconda tattica per salvare Cedric perché mica se sono resi consiste nel dopo cercare di farlo ammazzare umiliarlo umiliarlo best modo per salvare da qualcuno proprio Dobby vi guarda dallassù pieno di ammirazione manco Dobby arriva a sti livelli diciassettesima scena del secondo atto paso adelante corona ermione insegnante che sono solo amici eh sì sì solo amici però ci guardiamo languide e ci diciamo sai che bello se fossimo sposati ma amici 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 sta parola per tutto il capitolo sparsa fine del capitolo diciottesima scena arrivano Drago e Ginny a caso dalla McGranite che vogliono trovare pure loro i loro figli e la McGranite fa va bene sono la preside avrei una scola da manna avanti ma va bene diciannovesima scena Albus e Scorpius incontrano Mirtilla perché sono rispariti i figli eh no anche questa dimensione parallela mo stanno annà se so volemo se bene e hanno ideato il piano per umiliare Cedric e mo stanno cercando di metterli in atto quindi l'hanno visto dalla mappa del malandrino tipo sono rispariti ok ok è una fanfic raga è una fanfic Pit Pie guarda te voglio fa aspetta mo te faccio un recap Albus e Scorpius dove vanno nella scuola per infrattasse per poi rifare il viaggio del tempo nel bagno del secondo piano dei ragazzi dove sta Mirtilla porca puttana sempre le stesse cose e fanno ingrandire saponette non chiede e non pensare male e mentre mangiano l'arga branchia perché tutti rimediano sta cazzo d'arga branchia so solo cose che hanno fatto nei libri precedenti tutte le idee riciclate cazzeggiano un po' con Mirtilla e vanno giù per un tubo che collega il bagno dei ragazzi a il lago perché la seconda prova era nel lago sto bagno è come Roma tutti i tubi portano al bagno del secondo piano e poi via del giratempo che poi comunque se poi ti riporta ecco infatti stavo a legge che poi se ti riporta al presente non è un giratempo cioè tu stai nel passato 5 minuti e poi torni nel presente cioè è una macchina del tempo e basta però ok e guarda caso parte 2 mentre lo stanno nel bagno della dimensione parallela vi ricordo per tornare nel passato un'altra volta e cercare di ricambiarlo tipo la puntata dei simpson del tostapane si la puntata dei simpson del tostapane ti ricordi come rigeno hanno incastrato la mano arrivano tutta la gombricola tra gogini forse è tornato pure Harry po' mentre sta nanna indietro come pava foresta ma guarda un po' e cioccano solo Mirtilla che sniccia subito tutto Harry bu Mirtilla bu ventesima scena del secondo capitolo Hogwarts 1995 stavolta perché dopo Capodanno c'è la seconda prova il 94 la prima prova dopo Capodanno eccetera la seconda prova Albus e Scorpio più se sono non l'ago beccano Cedric e lo ingorgiano lo fanno ingrandì ecco perché avevano ingrandito le saponette e Cedric che fa come sia Marge in pratica diventa una bolla se gonfia vola via tutti lo piano per culo pure il commentatore che figura di merda ma che figura di merda brogli incredibili del torneo maeste dimen cioè maeste dimensioni parallele non si accorgono che qualcuno sta boicottando Cedric è la seconda volta che prima gli parte a bacchetta mo va bene si sentono cose inserpentese incredibili e si torna nel presente perché a giradepo appunto fa come gli pare ma guarda caso sempre quando finiscono di fare quello che devono fare questi tornano nel presente capito cioè loro expelliarmano Cedric torni nel presente e ingorgiano Cedric torni nel presente proprio precisi precisi guarda caso quindi mo ce l'avranno fatta avrà cambiato il preosato presente e futuro tutte cose chi è che sta lì al lago a richiapparli chi ce sta chi ce sta a Hogwarts al lago l'Humbridge cosa l'Humbridge ta 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 Scorpius è nel panico Albus no Albus non è nel panico perché perché non c'è più Albus ta 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 preside devo cercare Albus pot e chi è e chi è anzi la vecchia voce dell'Humbridge l'ultimo pot che ho sentito è schioppato vent'anni fa è schioppato vent'anni fa ripeto bam durante la ribellione contro il nostro signore padrone Voldemort zan 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 cosa come succede quindi Harry è morto e il signor oscuro ha vinto e questo è un mondo dove il signor oscuro domina signore padrone di queste terre non ci posso credere e invece credici a ricasso le otto e noi stiamo a metà libro che dobbiamo fare continuo quanto ci ho messo 40 minuti fino a qua se ce ne metto altri 40 si potrebbe pure fa un'ora è passata dai continuo facciamo tutto un unico video incredibile dai che ve ne pare fino a mo? vi faccio un recapino allora Albus figlio di Harry va a scuola diventa serpe verde e no grifondoro come tutti si aspettano tutti lo piono per culo si fa amico Scorpius Amos va a casa da Harry Potter baccaglia perché ha trovato una giratempo Harry Potter e vuole salvar figlio Amos Harry gli dice no Harry litiga con Albus il figlio no Amos no Amos allora Albus Rosi che durante il quarto anno va da Amos e gli ha fatto lo salvo io tuo figlio vaffanculo c'è va Delphi Delphi si unisce a loro vanno nell'ufficio del ministro della magia che è Hermione trovano a giratempo vanno indietro nel tempo inguaiano Cedric non funziona dimensione parallela tornano un'altra volta indietro nel tempo non rifunziona Voldemort è ancora al potere terzo atto prima scena va tutto una merda Voldy ancora vivo i dissennatori svolazzano per Hogwarts e la Umbridge è preoccupata per Scorpius perché in sta dimensione parallela Scorpius è uno tipo alla Tom Riddle bello intelligente affascinante simpatico il re scorpione lo chiamano un saluto a The Rock e la Umbridge è preoccupata non sei più il puro sangue assetato sempre di sangue ma marcio che sei sempre stato Scorpius fa il vago possiamo andare avanti col piano come? sì come? sì andiamo avanti che piano che fa la Umbridge scena seconda Carl e Ian ma chi sono lo so si avvicinano a Scorpius salute il re scorpione pure Polli che mi sa che era una copiava per culo qua è innamoratissima di lui c'è proprio una fanfiction scritta da un quindicenne che sogna che tutti lo amino capito cioè una cosa proprio va bene poi è innamorata da lui va tutto bene Scorpius è il figo dalla scuola dai ogni 5 minuti si sente qualcuno urlare cioè qualche mudball che urla dai sotterrani si sente proprio però dai terza scena draco draco 616 perché questa dimensione parallela baccaglia il figlio ah si gli emena proprio perché in sta dimensione è più come Lucius drago è più cattivo un po' come Lucius e Tywin ok però vabbè rapporto padre figlio basta con le tenelovele per favore e si salutano con un bel saluto a Voldemort e al valore ma che è il nuovo slogan di sto libro con i mangiamorte poi che hanno fatto che in questo mondo i mangiamorte Voldemort hanno fatto i campi dei concetti cioè proprio vi per vendetta vi per il valore ok aspetta voglio un attimo leggere le donazioni se me sono perso qualcuno grazie al most angelica che si è iscritto a balive che gli hanno regalato cesira regine tutte cose panci jeff italian lego stra 3 1 1 pinzook pro scrittice sui pattini cinci andreas sandro f99 nice ton e tutti gli altri grazie mille le donazioni grazie a jacosta per i 5 dollari ciao c'è se l'ultimo video il pugnettino la bomba e tutte le versioni su sedamo sono musica grazie troppo buono grazie a cesira che ha donato 5 dollari e 41 sono le regine tutte cose un giorno sarai mio marito ah grazie grazie non sono degno è ok ho sentito qualcosa suonare grazie a mags nims che si è scritto andiamo avanti si mi è arrivata la donazione cesira grazie allora quarta scena si scopre che il piano loro per umiliare cedric mettiamo cedric un salutino a cedric che è il fulco è l'emblema se no amore impossibile ma chi è lili non voglio sapere incazzare allora col piano d'umiliare a cedric l'hanno fatto incazzare ed è diventato un mangiamorte perché tutti l'hanno preso per culo e lui si è incattivito ma te rendi conto ma ancora più importante di questo scopriamo che in questa dimensione piton è ancora vivo si piton e dai andiamo subito da piton via nella quinta scena dove scorpius va in alla pozioni e contro piton e la prende larga sul fatto che siano in una dimensione parallela la gira tempo sgrava gli dice tutto compreso che sa che lui faceva il doppio gioco per silente non lo sapeva nessuno ma io lo so è arrivata una donazione grazie a slup245 per i 5 dollari ti ha dato una donazione che è come se ti offrissi una birra grazie io me la berrò fratello grazie mille o sorella comunque gli spiattella tutto dalla dimensione parallela e veniamo a sapere che cedric dopo essere diventato un mangiamorte nella battaglia di hogwarts uccise metto piton uccise un mago chi uccise metto piton e poi metto pure l'altro chi uccise nella battaglia contro hogwarts perché Voldemort ha vinto ha ucciso un mago che non doveva uccide no Harry è morto nel quarto libro bravo simael Neville sai che ha ammazzato solo una persona Neville quindi non ha ammazzato una genie Neville e quindi non ha sconfitto Voldemort che ha ucciso Harry Potter no l'ha ucciso una battaglia finale che ha ucciso Harry Potter tutta una serie di cose incredibile poi piton non gli crede e quindi daglie con la carta Lily lo faccia per lei madonna mia Harry Potter lo sapeva che lei era bravo ci ha chiamato pure suo figlio che mu è sparito dobbiamo salvarlo Albus ma si chiama Albus Albus Severus era meglio e si convince portandolo nel nascondiglio della sesta scena dell'esercito di Silente re di vivo e di che è composto l'esercito di Silente? da Piton Ermione che non è più quella infame questa è un'altra dimensione ancora Ron basta Piton, Ermione e Ron scena numero magica del terzo atto sette scena sette del terzo atto ricapino pure per Ron e Ermione di come tutta sta storia sia Trunks che va nel passato praticamente vabbè Trunks e Trunks lo fanno tutti tutti e decidono che la cosa migliore da fare sia resettare tutte cose cioè annullare tre quarti del libro fino a mo quindi deviare gli incantesimi che sti due test de cazzo hanno fatto fino a mo cioè capisci? vado io no io invece io ce vanno tutti scena 8 del terzo è la più bella scena 8 Alice che cos'è che non capisci? l'ho pure fatto lo spieghino adesso ci sta solo Scorpius Albus è sparito perché Harry Potter è morto perché Cedric in questa dimensione che è la terza che vediamo ma la seconda dei salti temporali ha vinto Voldemort Cedric ha ammazzato Neville Voldemort ha ammazzato Harry quindi adesso c'è sta solo il fiode Drago però c'è ancora Piton e Ron e Hermione che si nascondono sono dei poi fuggitivi ok? l'incontro tra Albus e Hermione succede durante il primo salto temporale che stanno in mezzo lì alla folla e Hermione li ciocca e fa siete sospetti gli dice cose no non l'ha scritto la Rowling capito? Sirius come è morto e che cazzo ne so non lo dico non Federica non lo dico Scorpius esatto Silente in questa realtà sarà schioppatissimo non lo so non ti dicono tutte le risposte comunque si lo butto in caccia vabbè comunque si adesso scena hot tornano nelle due volte che sono andati indietro e parano gli incantesimi che erano arrivati a Cedric quindi e tornano nel presente doloranti perché sta gira tempo te fa la bua non si capisce il motivo tornano però in mezzo alla foresta proibita io non l'ho capito bene sto pezzo perché cioè tornano indietro nel tempo e parano no parano scusa parano solo il primo incantesimo quello contro il drago quando ritornano ritornano in mezzo alla foresta non si capisce il motivo perché in teoria dovrebbero tornare sempre nello stesso punto in cui vanno per questo vanno nel tubo del bagno delle seconde ragazze tornano indietro tornano una foresta in mezzo ai dissenatori ed è ancora il mondo brutto di Voldemort non è non è bastato parare il drago bisogna pure impedire che faccia la figura del merda ok nella seconda prova però ci stanno tutti i dissenatori che cazzo succede ma quindi succede che ermione si sacrifica dichiarando il suo amore per ron pure in questa dimensione perché ci saranno pure 17.000 qui in curdici realtà alternative ma loro si ameranno in tutte dream io vivo per le fanfiction ah che bello e poi vengono mloati da dissenatori schioppano ancora più bello oh no purelli no purelli piton porta via scorpius e arriva pure l'humbridge aha va beccato piton usa l'incanto affanculo proprio quello expulgo proprio perché la spedisce via ed è il momento suo di piton di sacrificarsi 10 metri più avanti veramente di ermione e ron sempre con tutti i dissenatori vabbè però vabbè tutte frasi eroiche di piton sto libro un po' fan di piton quindi sono contento ciao pure piton e scorpius riesce a ritornare nel passato proprio in quel momento durante la seconda prova a salvare cedric dal se stesso del passato ma in realtà del futuro che è tornato nel passato hai capito e riciccia fuori albus pensavo fossi tu il protagonista albus invece me sa che è scorpius e tornano nel presente quello che doveva essere all'inizio quindi ricapitolando fino a qua del libro è come se non fosse successo un cazzo perché adesso il passato è tornato come doveva essere solo che loro hanno capito il fatto di salvare albus sta lotta finale con i dissennatori potrebbe essere benissimo la fine del libro no scorpius che capisce che non deve interferire col passato salva albus fine no cioè che altro mi devi dire che cazzo vuoi da vita mia vediamo perché l'agonia è appena iniziata va bene ci sono ancora delle sottotrame tipo scorpius è veramente il figlio di voldemort che cos'è perché Henry sente le voci in capoccia no non è che è inutile leggere mezzo capitolo è inutile leggere mezzo libro comunque l'agonia non è finita è appena iniziata perché la giratempo il giratempo quello che è è sparito danzanzan decima scena del terzo atto la mcranit baccaglia tutti fate schifo tutti ok undicesima scena Henry e Albus si riappacificano perché litigano ogni tre puntate ah no scusa Henry infatti non sta Harry Albus Harry no Scorpius Harry Albus si riappacificano padre figlio un pochino è tutto sul rapporto padre figlio che però è scritto de merda però vabbè e Albus gli fa tu lo sai che in tutti no io lo fa ma lo dovrebbe dire in tutti gli universi paralleli ci odiamo ah che bello e invece no scena 12 si torna nel passato nei ricordi di Harry è tutto un ricordi barra viaggi nel tempo Petunia Petunia voglio che mi si senta Petunia porta un Henry piccino a Godric Solo mettiamo Godric Solo ecco di è anzi questa è più suggestiva porta un Henry piccino a Godric Solo mai nella vita mai e si commuove Petunia vedendo i fiori sulla tomba della sorella c'è c'è e improvvisamente ciccia fuori indovina chi indovina non dovnerà mai che ciccia fuori il primo condovina vince un bacetto è tutta un sogno visione di Harry bravo Voldemort esce fuori Voldemort o a caso perché è tutta una visione è ancora col serpentese che si sente ogni tanto Harry Potter va bene scena 13 era tutto un sogno di Harry perché Petunia non l'ha mai portato là lo dice pure a meno male e non c'era manco Voldemort ovviamente ma in tutto questo grazie a mister Buck in tutto questo ha visto anche Albus come al solito e si caga perché perché che quel piccolo bastardo sia ancora in pericolo e me sante sì quindi quale cazzo è la trama vera non lo non 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 io avrete stavo a leggere ma scusate ma non è finito il libro ma che altro c'è dei viti che voi che voi vabbè scena 14 Scorpius se la sente calla è cresciuto come personaggio ha fatto mille avventure ha visto che era figo nell'altra scuola Albus invece no quindi mo toccherà Albus fa qualcosa diciamo che la prova di Scorpius era quella mo toccherà Albus salvare il mondo cioè non lo so tipo distrugge la giratempo non si sa però quello che si sa è che la giratempo non era sparita se l'era inguattata Scorpius ma che cazzo fai ma nascondi le robe al ministro ma non ti regoli ma che sia cattivo veramente che abbia ragione Harry cattive compagnie scena 15 presidente mcgreddit sono rispariti quei due e che cazzo scena 16 cioè ma che scena proprio così ma non se regulus esatto qui uno non capisce che cazzo ce devono fare con sta giratempo ancora la vogliono distruggere oh grazie alert 83 caricato un boramento a Monclei e vanno alla gufiera guferia quella là che si porta via e arriva pure Delphi e quindi si riunisce si riunisce il trio chi è la traditrice so io zan 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 Antonio Antonio Maiolani benvenuto Delphi è stata una traditrice tutto il tempo ma che veramente l'unico personaggio che interagiva con loro un po' più di tempo si scopre che in realtà c'era dietro lei tutto questo ma no no non me lo dire va bene comunque ma che vuol dire che è una traditrice perché plot twist dei plot twist delphi al tatuaggio dell'augurei e che cos'è l'augurei io ti direi l'augurei è questo un uccello magico che canta che canta quando sta arrivando la morte che è poi il simbolo che avevano quelli dell'ordine vi per vendetta che vi ho detto di poco a poco avevano tutti sto tatuaggio nero ed è lei l'augurei quindi in quel mondo Voldemort era vivo e eravamo rimasti Albus e Scorpius nelle puntate preceprimas Albus e Scorpius scoprono che Delphi è una traditrice e Delphi li caccia con la magia gli fa un culo così e gli spezza le bacchette quindi chi è Delphi? perché ha usato Scorpius e Albus? e prima ancora Amos per i suoi scopi? scena 17 grazie a Samu Geek crasha più spesso così non c'è tutto sto degrado no vabbè più gente c'è più c'è il bordello go scena 18 Harry, Ron, Hermione e Drago quindi ci spostiamo e Ginny vanno da Amos alla casa di riposo un po' arrabbiatini hai usato i nostri figli per salvare il tuo cattivo ma Amos rigetta tutte le accuse Zan l'hanno visti con tua nipote ma la nipote non è mai esistita l'avevamo capito due scene fa però vabbè ma mo l'hanno capito pure Harry e Co Zan 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 aspetta che è arrivata una dona Parapapa grazie a Dershark di che sei iscritto donazione a donazione grazie a Biolive che ha donato 5 euro ti adoro Trono grazie troppo buo troppo buo ok andiamo avanti allora il mistero si infrattisce Delfin Delfi è in mezzo al campo di Quimbritz perché è il luogo dove si è tenuto l'ultima prova del torneo 3-4 magli questo è il quarto anno di Albus e Scorpius e ripercorre il quarto anno di Harry, Cedric eccetera il piano di Delfin qual è? entrare nella terza prova per riumiliare Cedric ma basta umiliare quell'uomo per far tornare il mondo cattivo e far compiere indovina cosa indovina cosa si deve compiere indovina stavo spiegando cos'era l'uccellaccio come l'uccellaccio era quello che ha tatuato la tipa la profezia che c'è stava pure nel mondo cattivo erano tutti tatuati come lei quindi lei era tipo la capa di qualche culto perché era il braccio destro di Voldemort la profezia perché c'è una profezia pure qua e qual è la profezia? la profezia da per tutto vabbè è ovvio che c'è sta una profezia pure di questo c'è uno scaffali pieni di profezie c'è c'è una profezia per tutto pure di quale colore di mutande metterai domani c'è una profezia vabbè molto dico qual è la profezia però intanto arriva un certo Craig Craig fa parte della scuola chi sei? non lo so però il certo Craig muore ammazzato da Delphine ah è il nuovo Cedric Craig Cedric ho capito e la profezia menzionata di prima è va la leggo tutta perché me la so scritta ma prima dovete la donazione grazie a Shields Diba per altri 10 euro cazzo grazie mille sono troppi se ce li hai bene se no non ti lavare il pari da bocca per me perché veramente non mi donare il mio cazzo se ce li hai bene se no non mi donare grazie a Farix98 non donare ti ha te i soldi ti ha te i soldi grazie ok allora muore Craig e la profezia è mettiamo la profezia mentre la leggemo no minusco la profezia è quando gli altri saranno risparmiati quando il tempo sarà girato quando figli non visti uccideranno i padri allora tornerà il signore scu il signore cattivo allora tornerà il signore scuro beh me coglioni posso dire me coglioni quindi tutti avevano quel tatuaggio come vi dicevo prima perché lei comandava insieme a lui in quel mondo capito forse vabbè e via via di nuovo nel passato con la ventesima scena capo di quimbriz adibito al labirinto delfi sono tornati nel passato quindi delfi si trascina i due ragazzini perché la profezia possa compiersi deve essere scorpius a fare le robe perché non devono essere costretti devono fare come hanno fatto con sedrica all'inizio disarmarlo loro non può essere lei a compiere la profezia devono essere loro se no ammazza albus zan ma albus fa e vabbè allora scorpius gli dice ammazzo pure te delfi a scorpius e scorpius gli dice e vabbè pure scorpius oh il sacrificio incredibile sempre sta storia lì li scudo manopotte all'over again e quando delfi sta per esprimere il suo dissenso crucio viene disarmata attenzione da chi è sconfitta proprio da chi viene sconfitta delfi indovinate via non erri io ci sono rimasto del merda quando ho letto bravo hacker 6 che non è scritto così cedric cedric del passato arriva fa come buco che succede e poi disarma momento di gloria pitasso rosso e poi gli fa siete una prova pure voi stupeficio no non siamo una prova salvaci e cedric libera il nostro trio che ormai è un duo perché delfi e loro non gli dicono niente sul suo futuro hanno capito che cedric deve seguire il suo destino ciao cedric ciao bella bella riconoscenza copri delfi sta per tornare nel presente perché il giratempo si è stazionato e loro ci si buttano sopra e poi qua non si capisce bene se delfi lo spacca mentre sta andando indietro nel tempo lo spacca dopo fatto sta che non si capisce più in che tempo siano loro perché non stavano tornando nel presente a quanto pare ma ma vediamo scena 21 del terzo atto attenzione il terzo atto continua dopo la scena 20 21 7 per 3 7 numero magico 3 dove dà la morte attenzione Harry e Co ancora nella casa di riposo di Amos stanno che lo stanno accusando vanno nella camera dei delfi dove trovano la profezia quando gli altri saranno risparmiati l'altro era cedric l'altro cheat come lo chiama Voldemort uccidi l'altro quindi ha capito quando gli altri saranno risparmiati e tutti capiscono quando il tempo sarà girato e vabbè quando i figli non visti Albus non visto nel senso non capito grazie al 99 Galaxy che sei scritto che sei scritto non capito dal padre allora il signor oscuro tornerà tra l'allero pipì tra l'alla è scritto in piccolo vicino a stra profezia delfi ci ha scritto il plot twistone dei plot twistoni siete pronti siete pronti cosa succede il plot twist di delfi che ci ha scritto vicino a profezia mio padre papà papà non è Scorpius il figlio di Voldemort è delfin la figlia fine terzo atto dai siamo arrivati al ultimo quarto siamo arrivati dai che è tardissimo mi torno a mangiare scena 1 assemblea straordinaria dei maghi un'altra volta Hermione avverte tutti che il signor oscuro è tornato no ha un'erede femmina un'ereda che si nasconde nel tempo tipo Mortal Kombat 11 cronica cronica vabbè e la McGranit sbraita scena 2 Albus e Scorpius sono finiti nel 1900 indovina indovina dai dove possono essere finiti cosa manca cosa manca dai dove possono essere finiti dai 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 bravo cla nell'81 quella fatidica notte dove Lily e James perse la vita è una fanfiction che ti fa rivedere tutti i momenti salienti dove Jamie e quell'altra persero la vita la persero e non la trovarono più ma loro hanno imparato che se devono fai cazzi loro invece no vanno a vedere terza scena Albus e Scorpius a Gothic Solo ma non vogliono fermare Voldemort attenzione ma Delphine e dove sta ancora non c'è sta quarta scena Harry riparla con Silente Quadro ogni tanto va a parlare con sto cazzo di Silente Quadro e si dicono tutte cose alla tv no tu non mi volevi invece si mi hai usato vaffanculo arriva Drago a interrompere sto dramma brasiliano e ti ha rotto le palle e si scopre che la giratempo quella di tutto il libro era stata costruita per Lucius l'aveva ordinata e quello era il modello 1.0 un po' meh e Drago ce n'ha un'altra fatta meglio deste giratempo sgrave cioè e se ne esce a fine libro sto genio ma ma come cazzo ma vabbè andiamo a cercare i nostri figli c'è veramente l'anello del conte la giratempo dei malfoi dove andiamo a cercare i nostri figli anzi quando boh allora niente quinta scena albus e scorpius sono bloccati nel passato non ci hanno più a giratempo e vogliono mandare un messaggio ad eri del futuro in modo come possa leggere solo a sto libro virgolette filler non a quelli sette ok quelli fatti bene come fanno quindi con indorina come fanno come fanno a mandare un messaggio con una cosa che ti ho detto a inizio live vabbè campanale tu l'hai letto dai la coperta tu ti lo sai direi a tutti i bastardi bravo con la coperta eh ren tu lo sai proprio allora la coperta quella che vi ho detto a inizio che fa apparente scaturire tutto il litigio dove poi albus rosica no e vadamos perché a quell'altro hai regalato il mantello a quella leale a me la coperta del merda frate anzi padre ti voglio bene ma anche no anche no perché quella sera quando hanno litigato albus l'ha tirata prendendo una pozione d'amore che gli hanno regalato che si era versata sulla coperta albus quindi vuole usare la polvere di demiguis demiguis andiamo a vedere che cazzo è si potte stava e sto gufo strano con dei problemi sto gufo scimmia qua perché reagisce solo alla pozione polisucco eh ma sei vivo lo vedi ma questo sarà perso tutto vabbè e poi l'anima fantastica si sbrizzò bene ancora dopo idee quindi scriveranno sto messaggio che sarà invisibile fino a quella notte che casca la pozione 40 anni dopo e se faccia sto messaggio tutti no sto in starting sono cojone pensa come sto messo ecco e se sono in starting ma sarò cojone vabbè io ero convinto stavo con la profezia ho pure letto la profezia vabbè coke questo qui eeeh ma è distratto se farà il messaggio per 40 anni bello nascosto va bene ma dove la trovano sta polvere di demiguis demiguis dove la troveranno da bat il da bat la vicina che c'ha tutto e già che c'è stanno rubano pure un paio di bacchette va bene ma si ma vai con i criminali proprio ma poi perché batilda per bere una scorta di bacchette solo roll lo sa sesta scena a harry gli è più a male perché albus si aggiunge alla lista dalla gente che è schioppata per il ragazzino che è sopravvissuto per culo cioè lui harry gli morono tutti vicino pure il figlio non va bene ma molto convenientemente mentre pensa a tutto questo mettiamo harry neonato prende la copertina in mano madonna no 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 harry potter harry potter me bannano me bannano ma posso non bannare per quelle scene crevi no spero che no ecco questa copertina qui sotto l'occhio tu non lo vedi ma c'è scritto porco giù d'aiuto capito pure queste non è che sono bellissime delle foto però vabbè allora io mi dissocio da tutte le immagini che si sono viste e scopre sto messaggio papà aiut godric solo 1981 ne mettiamo godric solo perché sti bambini mi stanno a c'è sta il bambino di woldeward ma è veramente il bambino di woldeward no god no mi dissocio da quel neonato non si schiede così proprio mai però va bene oh oh ecco ecco allora quindi riescono a far avere questo messaggio perché la pozione è cascata papà aiuta c'era scritto online piccolo eh che gode si è perso un po' le cose ma mo stiamo arrivando proprio ai punti alla fine siamo alla fine e eri chiama raccolta ormai i magnifici 5 eri eri ron 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 geni e drago sono il gruppo e tutti a godrik solo nella scena numero magica settima del quarto atto tutti a godrik solo Ricordi, ricordi del passato Ron e Drago bisticciano Due rinfame, due ripovero Ma poi fanno tutti pace E via con la giratempo Sgrava 2.0 De Drago Scena 8 Henry e Co Finalmente si riuniscono con i piccoli Anceli Baci, abbracci, TVB Escus Che cosa c'è rimasto da fare in questo casso di libro Che è stato filler per 90% Trovare Delphi Oh, manca solo trovare E' proprio fatta a blocchi, se vede Prima sa risorvi questo, eh Adesso manca solo Delphi Scena 9 Prima di andare da Delphi, dalla trama vera Vuoi non buttare un po' di cento babbane Un posto dal Madblood, eccetera No, Henry e Ginny parlano Questo mi ha fatto tagliare Della differenza Tra l'amore tipo che fa Henry verso tutti Che si sacrificano per la scuola, eh E l'amore specifico C'è scritto proprio così L'amore specifico Che devi avere per tuo figlio Ma proprio calcola L'amore specifico Calcola la massa dell'amore proprio Ma il cazzo sta Ma che sto a legge Va bene E l'epifania da questo discorso Ma scusa Ma se Delphi avesse voluto uccidere Henry Piccino Al posto del padre Perché non l'ha fatto Perché non vuole uccidere Henry Piccino Vuole aspettare il padre E impedirgli di farlo Perché la cosa migliore qua sarebbe Non ammazzare Ma può non fare un cazzo Non far avverare la profezia Hai capito? Scena 10 Per fermare Delphi Qualcuno deve trasfigurarsi a Voldemort E fa il vago Stanno ancora tutti nell'81 No? Siamo riuniti nell'81 Così gli fanno lo scherzone tra Polone A Delphi Siamo Voldemort Scherzone a Delphi Se tagliamo con mi fia Ron fa Vado io che so il più sciallo Il più rilassato Voi siete troppo tesi Drago vado io che so il più preciso Io so uno serio Serpente Hermione vado io Sono più sveglia Ministra Harry vado io Sono il protagonista E tutti ok Poi tra l'altro Delphi Gli parlerà in serpentese E la cosa che fa più ride De sto libro È che Harry Quando gli era cominciato A far male la cicatrice Gli ha ripreso pure il serpentese Cioè Ma allora Voldemort è vivo Mi state prendendo per il culo Non è vero mai Però va bene Non c'era più il pezzo di anima dentro Quindi va bene Cioè Allora Se vuoi uno che parla serpentese Mandiron Che tanto lo sa parlare L'abbiamo visto E tanto Vabbè no Harry diventa Voldemort Undicesima scena Regà Siamo arrivati al capoline Siamo quasi arrivati Harry becca Delfi Che è molto Sunderina Nei confronti del padre Senpai notice me Aspetta Vedo Se è arrivato qualcosa No grazie Ok Però grazie a tutti Uguale Voglio E vuota subito Il sacco sulle sue origini Che lei è la figlia Di Voldemort Lei è la figlia di Voldemort E indovina di chi altro Lei è la figlia di Voldemort E indovina di chi De Voldemort E di 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 Winky No Sei matosa che brutto Di Bellatrix C'è Ma perché Ma che cazzo Ma quando Ma quando Prima della battaglia Di Hogwarts Dicono Ma noi l'abbiamo visto Tutto l'anno Di quel cesso Di battaglia di Hogwarts Alla fine del sesto libro Che è dodici mesi prima Lei sta in scimatore Magra come un chiodo E si rente e schioppa A Villa Marfoi Quindi dopo Natale Quindi sei mesi dopo Lei stava magra In forma E tortura Ermione Poi altri sei mesi dopo Cazzo Lei sta nella battaglia Di Hogwarts Bella in forma Ma quando l'ha fatta Sta figlia Ma qua Ma la panza Dov'è Ma che Hai capito Oh Non diciamo cazzate Non era incinta mai Mai Ma soprattutto Ma soprattutto A Voldemort Noi gli servono eredi Voldemort Sta a fare sto casino Per diventare immortale E poi vuole fare L'erede è un concetto De uno che sa Che deve morire E poi lascerà Qualcosa a qualcuno L'erede di Voldemort È Voldemort E basta Ok lo dico pure nel riassunto È proprio Non ha senso Nella sua mentalità Fa un figlio Un figlio lo vedrebbe Come un rivale Cazzo Anzi il figlio Cercherebbe di ammazzarlo A Voldemort Porca puttana Va bene L'erede del film Ma poi Veladrix Ha un marito Rudolf Rudolf Le strecce Le corna De Rudolf Il naso E che ha fatto Il marito De Veladrix Che stava Sbanna pure lui Ha nascosto La figlia Cioè capito Cornute ha vadato Proprio Va bene Per provare Che è la figlia A Voldemort Barra Henry Parla serpentese E vabbè Lo sa Fa pure Ron E vola E vola Perché non volano tutti Non volano tutti È una cosa Che ha segnato Solo a Piton E lei l'ha imparata Perché vola seguire Le urme del padre Quindi è forte Derfi Cioè Mena Derfi E vola Notice me Proprio Per citare L'ultimo video Sensei senpai Semmai No grazie a tutti Che mi fanno i complimenti Dai che siamo arrivati Te ne vai sul più bello Siamo arrivati E mancano Tre scene Lei vuole essere Come papino Ma Henry Sta tornando normale E gli fa Ti notice Ora vieni con me Nella trappola Vieni Ma Delphine Gli fa Ti vedo più Rosa maiale Del solito Sta tornando Con la sua carnagione Perché Henry Ha preso dal padre E duellone E a ripia le pizze E a ripia le pizze Da Delphi Eppure la bacchetta Perde Perde sia duello Che la bacchetta Ma con prezzo Cospresso del pericolo Chi arriva a salvarlo Severus Albus No Albus Severus Che gliene passa un'altra Ed Henry L'eroe del mondo magico Con questa nuova bacchetta Cosa farà? Gli romperà il culo a Delphi? No! La usa per chiamare amici sua Ventordici contro uno E se ne vanta pure questo Perché lui dice Io non ho mai combattuto da solo Bravo! Bravo! E Delphi la catturano Un cinque porca Catturano Delphi Cioè ma te rendi conto Cattiva! E Delphi In stile proprio anime giapponese Diventa buona Perché fa Volevo solo conoscere mio padre E Henry fa un discorso sull'orfani Ma porca puttana E poi fanno Ti perdoniamo Ma risente Quella voce Che dice Harry Potter Che ceppe tutto il libro Che ciccia fuori sempre Perché lo sai Mochi ciccia fuori Lo sai Mochi stava in ciccia fuori Proprio a fine Libro Virgolette Chi stava in ciccia fuori? Neville! No! Voldemort! E tutti! Ma non va a vedere Harry del futuro Sta andando verso il passato Non se ne è accorto Ve siete cagati? Ve siete cagati? No! E loro rivedono Tutta la scena Un'altra volta Madonna Madonna Cioè Deve uno fa gara Cioè Non mi fregaranno sto meme Come al solito Lo Lo I cintori di Harry I cintori di Batman Per quante cazzo De volte Muoiono On screen Per diare Loro vedono Harry soffre Ma Vanno andate a fanculo Scena 13 Il passato continua Con Hagrid Che arriva sulla scena Del delitto E raccoglie Harry Dalla golla Piccolo Angelo Scena 14 Scorpius Tornano a casa Tutto le adofine Scorpius Lumione So contente Oh E tra tutti i piccoli angeli E tra l'anno È tornata All'armonia Siamo alla scena 15 Proprio giusto in tempo Che È iniziato il cerbero Boscar Siamo alla fine Del quarto anno È l'ultimo capitolo Harry e Albus Hanno il momento Padre figlio Perché Praticamente Il combattimento È durato un secondo Delfin Ah si Sofia de Voldemort E poi è cascata Morta E adesso È più su Harry e Albus Ma veramente È un cringe E clamoroso Proprio Ma una cosa Va bene Harry e Albus Hanno il momento Padre figlio Su una collina C'è capito Proprio stereotipi Ta-da-da Ta-da-da E si scopre Che il motivo Per cui Harry L'unica cosa Rimasta insoluta Ciava il dolore Alla cicatrice E parlava Serpentese Regà Il motivo Almeno quello Che ho capito io Mo mo io Rileggio un attimo Perché c'è Il motivo È che Doveva liberarsi Di Voldemort Mentalmente Cioè ma che vuol dire Non solo fisicamente L'anima Anche il suo Ricordo Ma Ma Il passato Alle spalle Ma Ma E odia i piccioni Si scopre che odia i piccioni Non si sa per A caso proprio Odio i piccioni Ma perché Vaporelli La collina In toria Da quello che ho capito Dovrebbe essere Il luogo Della tomba Di Cedric Perché ci starebbe pure E forse pure A la collina Sono riuniti Al quarto libro La passaporta Ti ricordi Non lo so Ma Quello che è importante È che il padre E il figlio Adesso si capiscono Oh Va tutto Beh Fine 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 Del libro Incredibile Andiamo su Eddie Con Voldemort Che sorride In questa bella Storia Perdo due minuti Per saluto Due ore le abbiamo fatte Del live Cinque minuti E' schioppata Però vabbè Siete tornati Ottocento So contento Ma mi dispiace A me non dispiaceva Per drop Che cazzo Me ne frega No sul serio Mi dispiaceva Per la gente Che infatti Ho predetto Entrata Che me sono perso Eh cazzito Si è perso Tutta la parte finale Comunque rimane qua Grazie a tutti Io farei un raidino Famolo al cerbero Non so chi hanno Invitato Mi dispiace Per la gravità Però fammo un raid Al cerbero Dai Io vi saluto Però prima Dei fare sto raid Oh si aspetta Voglio dire Vi è piaciuto Voglio leggere un attimo Voi Vi è piaciuto Grazie a chi si è Subscritto Che ne pensate Si si Facciamo il commentario Lord Vivern Te pare Te pare Grazie al boss Che sei scritto Praticamente A grandi linee La storia Di Albus Cioè Praticamente È un rifacimento Del quarto È un remake Del quarto libro What if Questi cazzo Di what if Capito È una mutilazione Quanta cattiveria No No I what if Proprio una storia Proprio spiattellata Così La cosa che veramente Mi ha fatto rosicà È che ogni Cioè Plot twist Che ne so Come entriamo qua Apoli succo L'hanno già fatto Come respiriamo Sott'acqua Per far Ingrossare Cedrica La seconda prova E umiliarlo Larga branchia Grazie a The Hammer 2003 Tutte cose già fatte Vi è piaciuto Sta sorta di riassunto Fatto così Che io mi ero scritto Proprio dei punti salienti E sono andato a braccio Questo riassunto Accuratissimo live Vi è piaciuto Meno male Meno male Ci ho messo un giorno A leggerlo Se potrebbe fa Ogni tanto Leggo un libro Riassumo così Dai E poi mi sono divertito Dai Dai Era solo una curiosità mia Torniamo sul libro Questo mi ha deluso Capito Mi ha creato una donazione Qualcosa Vediamo Sì infatti Ci si mette poco A leggerlo Grazie a The Hammer 2003 Comunque Ti diverte Se ti diverte Vuoi no No vediamo Sì sì Ma tanto io farò Come mi pare Non vi preoccupate Non è che voi chieda a voi Perché poi Cioè C'ho il contentino No no Se vedo che funziona Ovviamente Però faccio come mi pare Comunque Sta Delphi Che esce fuori a casa Ma perché devi fare La figlia a voi Per fare il plot twist Ma Io ho capito Che questi sono fan E volono fasse Un altro Che ne so Volono fare un libro Da Harry Potter No ma Cioè ma potevi fare Veramente Un'altra Non la figlia Potevi fare la figlia De Grindelwald Cazzo Cioè Ci poteva Sta Qualcos'altro La mia razza Del mio cane È un bastardino Voi che ne pensate Voglio leggere Qualche commento Interessante vostro Però Dai Dite la vostra Prima che Verraido Mi sono perso Il resto Dal crash È il nano Tutto dondo Tanto rimane Non ti preoccupare Ma alla fine Sì Drago è con la moglie Alla fine Sì sì Infatti muore dopo C'ha ragione Ritananni Non è che muore Departo Sono un coglione Adesso basta Tornarsi Eh la cosa pure Che Harry Sembra veramente Un ragazzino Hanno annullato I progressi Grazie Arlet Per il dollaro Prendo un caffè Ora si può Sì Eh vabbè Fino a una certa No Mordino da mangiare Caso Non mi sono regolato Giulia Lo vedo Un venerdì Giulia Salva dopo Un venerdì Adesso no Mi dispiace Ma devo andare a mangiare Tardissimo Ho crashato 20 minuti Porca miseria Ma non è per fare i soldi Perché alla fine Rolling l'ha firmato dopo No Però perché hai accettato St'agonia Cioè non è Guarda Onestamente È iniziato male Poi me l'ho letto da solo Brutto Perché è brutto È veramente scritto Molto Cioè molto Non ti dico male Perché male No ma nel senso Male sì Però proprio Le reazioni I ragionamenti Sono proprio basici Sono proprio davvero Da liceo Questo mi è dispiaciuto un po' Però alla fine Scorre È proprio È veramente Un filler De Dragon Ball Sai il film di Broly E la leggenda Delphi è tipo Broly Un filler Potentissimo Che devi sconfiggere La figlia Che però Non porta a un cazzo Capito È un filler proprio Non è canon Non è canon Per niente Cioè se la gente Considera dei corsi Del ragazzino canon Veramente è un sbrocco Cioè Non è canon Non è caro Non è non è caro No Va bene ragazzi Oh Io spero vi sia piaciuto Questa lettura Anziamo a me Io sono contento Di averla fatta Perché almeno Ho letto veramente Tutte le cose Mi mancano solo Le sceneggiature D'anemali Fantastic Asti Sbriz Ma Solo gli abbonati Posso schercare Cerbero Che brutto No Allora no Solo gli abbonati Veramente Ma che disagio Fammi vedere Comunque io sono contento Di averlo letto Almeno so De che cazzo De morte Devo morire Poi lo sentivo Da un sacco De gente Che Sto corsi Del ragazzino Sto corsi Del ragazzino E quindi Almeno per completezza L'abbiamo letto Va bene Signori miei Che è successo In questa live Che ho fatto Due ore Di riassunto Di tutto il libro Questo è quasi Didattico Porca miseria Se non vai a leggere il libro Te senti due ore Di live mia Capisce a grandi linea Come è andata Redo rovazzi Quasi quasi Dai rediamo rovazzi Vediamo che dice Rediamo rovazzi C'è Barbascura In live Se c'è Barbascura Rido lui Ma non mi pare Che sia live Barbascura Non c'è Barbascura Dai rediamo rovazzi E scrivetegli Che gli scrive A rovazzi Che gli potremmo scrivere Bravo 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 Scrivetegli bravo Va bene Tante cari cose Ciao ciao Io da magna E voi guardate Le Cucca Ne parleremo pure Un altro po' Domenica prossima Un venerdì De Cursor Child Un po' l'inizio Della live Va bene Le vostre impressioni Mi sono divertito Io vi ripeto Alla fine E' una lettura Che se proprio fa Per completezza Guardate le pubblicità Scrivetegli bravo Scrivetegli bravo Ciao